... Si è spento Paolo Marangoni, 67enne colpito a Chioggia da un pregiudicato 26enne e ora indagato per l'ipotesi di omicidio pre-intenzionale, ma ancora a piede libero. Ed è morto anche Gianni Battistella, l'89enne travolto da una trentenne, risultata positiva all'alcol test, aveva un livello di 5 volte superiore al limite consentito. Ex dipendente a CTV denunciato dalla Guardia di Finanza per ricettazione, avrebbe intascato 114 mila euro dai soldi dei biglietti, scoperto a rubare dalle mance anche un dipendente del Casino. Polemiche per un tir di una ditta al servizio dell'hotel Bauer, appoggiato su una chiatta in Canal Grande con il Duce raffigurato, sul posto la polizia che ha avviato accertamenti. Il governatore Zaia oggi in consiglio regionale per discutere del bilancio, una manovra la definiscono le opposizioni insoddisfacente e inadeguata. A Venezia nuovo bando comunale a sostegno delle famiglie in difficoltà, aiuti fino a 300 euro per nucleo per il pagamento di affitti, bollette o spese condominali. Il Bauer siamo noi, lavoro, lavoro. Nuova protesta dei 200 dipendenti dell'hotel Bauer che dal 1 gennaio saranno senza occupazione. Buonasera, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Dunque lo avete sentito dai titoli, si è spento all'ospedale di Mestre dove era ricoverato da sabato il 67enne colpito a Chioggia da un pregiudicato di 26 anni, ora indagato con l'ipotesi di omicidio predere intenzionale ma ancora a piede libero. Non ce l'ha fatta Paolo Marangoni, il pensionato 67enne colpito con un pugno sabato sera in via Alga, sotto Marina, mentre usciva dall'abitazione dell'amica Daniela per andare a mangiare una pizza insieme. Ha urtato il braccio di Andrè Morana, 26enne pregiudicato per poter passare, scatenando però la sua furia. Lui l'ha inseguito pretendendo le scuse, un amico ha anche provato a trattenerlo ma alla fine è riuscito a colpire Marangoni con un pugno, facendogli sbattere la testa a terra, una caduta fatale. Paolo aveva gli occhi fissi e immobili, ha dichiarato l'amica mentre provava a praticargli il massaggio cardiaco e perdeva sangue dalla testa, mentre Morana, racconta ancora la donna, saltellava lì intorno e minacciava di non chiamare i carabinieri altrimenti l'avrei pagata. Di lì a poco Marangoni è stato portato all'ospedale, poi trasferito a Mestre dove si è spento a distanza di poche ore. Con la sua morte il fascicolo a carico di Morana, non ancora fermato, si aggrava passando dalle lesioni gravi all'omicidio preterintenzionale. Una vicenda che pesa come un macigno in città, un gesto che non trova commento, ha detto il sindaco Armelao, che ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno del funerale di Paolo per dimostrare la vicinanza dell'amministrazione della comunità. Il sindaco promette anche una valutazione insieme agli uffici comunali sul contesto nel quale è avvenuta la tragedia. Quel condominio credo abbia bisogno anche di una ristrutturazione totale. Se ci saranno delle opportunità si potrebbe anche pensare eventualmente con la collaborazione chiaramente dei servizi sociali che seguono anche l'ufficio casa dei servizi sociali, anche di destinare alcuni nuclei familiari in altre zone del territorio comunale di Chiozza, in modo da far scendere un po' la pressione che subiamo noi, subiamo nel senso pacifico chiaramente le termine, anche dei residenti di Via Alga, perché tanti residenti di Via Alga sono impauriti di questa situazione. Però, ripeto, è una situazione che ci troviamo, che abbiamo ereditato. Ed è morto anche Gianni Battistella, l'89enne, travolto la settimana scorsa dall'auto condotta da una trentenne, risultata poi positiva all'alcol test in Via Eraclea a Sandona di Piave. La donna aveva nel sangue una concentrazione di alcol superiore di cinque volte il limite consentito. Ora parliamo invece di dipendenti comunali infedeli sorpresi a rubare rispettivamente alla CTV e al Casinò di Venezia, scatta l'indagine della Procura con l'intervento della Guardia di Finanza. 58enne dipendente a VM in cinque anni a partire dal 2015 si è intascato indebitamente i soldi dei biglietti CTV venduti da cartolerie e tabacchi e altre attività autorizzate, mettendo, si fa per dire, da parte più di 100.000 euro anziché versarli nelle casse della municipalizzata. È stato accertato che a seguito di specifiche convenzioni con strutture ricettive l'ex dipendente forniva dei titoli di viaggio in contoventita per poi non riversare gli introiti nelle casse della società medesima. Il dipendente infedele smascherato è stato licenziato nel 2020 e ora dovrà rispondere del reato di peculato. Nell'ambito della stessa inchiesta indagata per ricettazione a una seconda persona, il complice, ha intascato più di 40.000 euro per aver favorito nell'attività illecita l'oramai ex cassiere CTV. Questa tipologia d'indagine rafforza il ruolo di Polizia Economico-Finanziaria che la Guardia di Finanza vuole e intende condurre proprio a tutela di tutte quelle forme di tutela erariale. L'Ufficio Sicurezza del Comune di Venezia, il SIC, ha smascherato la vicenda inoltre di un altro dipendente, sempre di una municipalizzata, un croupier del casino sorpreso rubare le mance lasciate dai clienti. Il monito del sindaco Brugnaro, la città è tappezzata di telecamere in ogni dove, avverte. Questa è una città in cui sconsiglio di rubare perché li prendiamo. Lo dico anche per chi lascia i sacchetti per la strada e non c'è gente da fuori. Allora uno deve procurarsi la chiavetta perché qualcuno vuole fare il furbo e non ha la chiavetta e butta tornando i sacchetti per terra. Guardate, vi becchiamo perché abbiamo messo le telecamere, vi dico abbiamo macchine, civetta, mettiamo le telecamere. Non pensate solo a quelle fisse, vi andiamo a prendere. È un peccato rovinarvi la vita per una stupidaggia. E un grosso tiri invece con la scritta il Duce e il profilo di Benito Mussolini stampato su un fianco. Ha acceso le polemiche a Venezia, il camion appoggiato su una chiata, lo vedete, è al servizio dell'hotel Bauer che ha iniziato i lavori di ristrutturazione. Denuncia sulla pagina Facebook del gruppo 25 Aprile da parte del consigliere comunale Gasparinetti. Qui si va oltre, si legge, lo diremo, anche se al posto di Benito Mussolini il Duce ci fossero i baffoni di Stalin. Il prestigioso committente non ha nulla da dire. Critica anche la consigliera comunale del PD Sambo. Chiediamo al sindaco di intervenire e di segnalare quanto è avvenuto con prontezza alla Procura della Repubblica. La polizia è arrivata sul posto ma il tir si era già spostato. Ora le forze dell'ordine faranno accertamenti per un eventuale reato di apologia di fascismo. Siamo alla politica regionale perché il governatore Zaia oggi in consiglio era presente per discutere il bilancio. Una manovra, la definiscono le opposizioni, insoddisfacente e inadeguata. Il Consiglio regionale sta lavorando alla manovra di bilancio 2023. Una manovra che le opposizioni definiscono insoddisfacente e inadeguata rispetto alle esigenze attuali del Veneto. Siamo tornati a chiedere interventi prima di tutto per le case di riposo, l'inalzamento delle rette per le famiglie rischia di essere assolutamente insostenibile. E poi sulle borse di studio ci sono tanti studenti universitari in Veneto che devono abbandonare l'università perché anche se ne avrebbero diritto non ricevono la borsa di studio. Per cui interventi per le famiglie, per il sociale. Il presidente Zaia su questi temi oggi non ha dato risposte. Io penso ci possano essere tanti strumenti. Uno è sicuramente l'introduzione dell'addizionale IRPEF. C'è la possibilità di ricorrere all'indebitamento. C'è la possibilità di utilizzare le spese, le entrate correnti per spese in conto capitale. Ci sono diverse possibilità. Io non ho capito dove vuole andare, dove vuole portare questa regione travolta dalla pandemia e ora anche esposta al rischio di recessione economica. Ma il presidente che oggi in consiglio ha parlato per circa un'ora e mezza replica così. Io sostanzialmente ho detto quello che è vero. Cioè che il Veneto è primo a primati a livello nazionale per spesa pro capite, per virtuosità, per livelli essenziali di assistenza. Se guardiamo la classifica nazionale il Veneto è primo in quasi tutte le classifiche. Dall'altro c'è anche da dire che abbiamo fatto una scelta di essere no tax, tax free. Siamo gli unici in Italia, qualcuno ha detto che non va bene così, noi diciamo invece che va bene così, visto che è considerato che abbiamo fatto fare una bella cura dimagrante all'ente regione, ovviamente tagliando tutti gli sprechi possibili e immaginabili. Nei prossimi giorni le opposizioni saranno agguerrite. Nei prossimi giorni su questi temi daremo battaglie e chiederemo alla regione risposte, perché da troppo tempo attendono i cittadini del Veneto risposte sul sociale, sulla sanità appunto la carenza dei medici sta dando problemi a tantissimi cittadini del Veneto. Noi contiamo che la maggioranza possa ascoltare queste richieste forti che arrivano non da noi ma direttamente dai cittadini. Ora qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo in diretta edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Prima di proseguire con i servizi vi ricordo il quesito del sondaggio di questa sera. Multe in base al reddito, siete d'accordo? Per rispondere di sì, 0422 1626 691. Per rispondere di no, 0422 1626 690. Come sempre l'esito questa sera a Ring a partire dalle 21.15. A Venezia, nuovo bando comunale a sostegno delle famiglie in difficoltà. Andiamo a sentire. 3 milioni di euro che vanno ad aggiungersi al milione e mezzo di un paio di mesi fa, stanziate a sostegno delle oltre 6 mila famiglie veneziane in difficoltà economica. Il bando comunale è aperto da giovedì prossimo, 15 dicembre. Saranno appunto 3 milioni divisi in un milione e mezzo per un bando che uscirà già nei prossimi giorni e un milione e mezzo che uscirà nei primi mesi del prossimo anno. Sono legati per sostenere le famiglie, per le spese sostenute per il pagamento dei canoni di affitto oppure per le spese energetiche o spese condominali. È un contributo fino a 300 euro. La platea è molto allargata perché prevede che possano far domanda le famiglie con un ISEE fino a 20.000 euro. La presentazione delle domande potrà avvenire dalle ore 12 di giovedì 15 dicembre fino alle ore 12 di venerdì 30 dicembre attraverso la piattaforma DIME con l'utilizzo di Speed, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi. L'invito è a procurarsi appunto l'ISEE, a far domanda di ISEE per chi ancora non ce l'avesse e a procurarsi anche le pezze giustificative e quindi la prova del pagamento degli affitti e delle spese energetiche perché appunto sarà richiesto di allegarle. Tutto informatico, tutto molto semplice. Una commissione provvederà poi a stilare la graduatoria delle domande ricevute e risultate valide e complete di tutta la documentazione richiesta. Anche i tempi poi di verifica saranno molto contenuti per dare quanto prima l'aiuto alle famiglie in conto corrente. I 200 lavoratori e lavoratrici dell'hotel Bauer da gennaio a rischio occupazionale oggi hanno protestato in delegazione al grido di lavoro-lavoro davanti alla sede della regione di Piazzale Grandi Stazioni a Venezia. Il Bauer siamo noi, l'altro slogan dei dipendenti che chiedono alla società immobiliare Signa, tra le più importanti al mondo, la revoca della procedura di licenziamento collettivo che dovrebbe partire, come detto, dal 1 gennaio 2023. E domani sciopero generale indetto dalla CGL contro la finanziaria. Sentiamo la segretaria Tiziana Basso. Domani la CGL del Veneto, nell'ambito della campagna nazionale, fa lo sciopero generale di quattro ore in tutta la regione, con manifestazioni in tutti i territori. Lo fa per cambiare una manovra iniqua e sbagliata. Iniqua perché non dà risposte a chi ne ha bisogno, non ci sono interventi sui salari, aiuta gli evasori e preleva ancora una volta dai pensionati risorse per pagare proprio il tema della tassa piatta. Non dà risposte alla precarietà, ma introduce invece i voucher, una misura che aveva fatto grandi danni nella nostra regione e in più mette in campo tagli fondamentali su sanità e scuola. Per noi queste sono cose inaccettabili. E quindi abbiamo deciso di farlo sciopero, di farlo in tutte le province con manifestazioni e domani aspettiamo tutte le lavoratrici e i lavoratori, pensionati e le pensionate, per l'adesione alle nostre iniziative. Poco prima dei nostri telegiornali avete potuto seguire la diretta della Santa Messa di Santa Lucia celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia dal Santuario Diocesano di Venezia. Sentiamo una breve parte dell'Omelia. Lucia Vergine, Lucia Martire, Lucia Giovane Donna, Lucia che non ha degli incarichi particolari nella Chiesa, ma che è l'immagine della Chiesa fedele, è l'immagine della Chiesa Vergine, cioè integra nella fede. Lucia ha donato la vita, è stata una giovane donna di speranza, diventa un modello che dobbiamo cercare di incarnare nel nostro oggi. Per questo ci rivolgiamo di nuovo oggi con fiducia alla sua intercessione, per questo chiediamo nella preghiera il dono di superare con forza ogni male per raggiungere alla gloria del cielo. Monsignor Moraglia, tra gli ospiti di Ring questa sera a partire dalle 21.15 ci saranno anche Emanuele Crosato, Mauro Visentin, Stefano Pelloni per la parte politica, poi Sebastiano Favero, presidente nazionale dell'ANA e infine Angelo Centola dell'ACI che parlerà proprio di multe in base al reddito. È tutto, grazie per essere stati con noi, vi auguro una buona serata, arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio, con professionalità, serietà e un team competente qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo. Bentrovati al meteo. La circolazione atmosferica a livello europeo resta complessa e di difficile interpretazione da parte dei modelli in questi giorni, in quanto mercoledì 14 il tempo sarà ancora buono ma durerà poco perché il resto della settimana sarà caratterizzato da un via vai di perturbazioni. Nel dettaglio sul Veneto sarà asciutto ma con cielo piuttosto nuvoloso come ci mostra la grafica. Possibili parentesi più soleggiate sui settori montuosi. temperature in aumento specie nei valori minimi che saranno compresi tra meno 2 e 2 gradi, massime invece tra 3 e 6 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto un po' ovunque mentre su prealpi e alpi più sole. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime sui 4-8 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, il tempo sarà un po' più soleggiato ma come vediamo sempre con nuvolosità innocua in transito. Temperature minime intorno a meno 3-0 gradi, massime tra 1 e 4 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Rizzardo SRL, da oltre 40 anni sul territorio, con professionalità, serietà e un team competente qualificato al servizio del cliente per ogni aspetto del fine vita dell'autoveicolo.